Sono Simona De Luca, componente del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordino l'iniziativa Open Coesione, iniziativa di Open Government di governo aperto, all'interno della quale dal 2013 si è sviluppato il percorso didattico a scuola di Open Coesione. Vi presento un poster per la 14esima Conferenza Nazionale di Statistica realizzato insieme a Patrizia Collesi della Direzione Centrale per la Comunicazione, l'Informazione, i Servizi, i Cittadini e gli Utenti dell'Istituto Nazionale di Statistica e ai miei colleghi del team di a scuola di Open Coesione, Ilaria Di Leva, Maria Cristina De Luca, Gianmarco Guazzo, Cinzia Roma e Nora Inwinkel. Il percorso didattico a scuola di Open Coesione è giunto ormai alla sua ottava edizione e con un coinvolgimento che negli diversi anni scolastici ha visto oltre 30.000 studenti prendere parte a questa iniziativa e 2.500 docenti guidarli nella realizzazione di ricerche di monitoraggio civico a partire dai dati aperti pubblicati sul portale Open Coesione sui progetti finanziati dalle politiche di coesione nei diversi territori. I ragazzi nel corso di un intero anno scolastico realizzano delle vere e proprie ricerche di approfondimento che partono dai dati, utilizzano altre informazioni amministrative e statistiche e arrivano a produrre contenuti grafici, elaborazioni di dati, tabelle, articoli di data journalist così come interazioni dirette con i diversi attori istituzionali coinvolti nella programmazione, attuazione e gestione del progetto che hanno selezionato. A partire dal 2018 è stata siglata una partnership tra il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat, per rafforzare quella componente presente all'interno del percorso didattico Scuola di Open Coesione dedicata proprio all'approfondimento statistico, quindi alla cultura statistica, alla cultura dei dati, per affiancare i ragazzi attraverso la rete dei referenti territoriali dell'Istituto nel approfondire come realizzare tabelle, grafici, visualizzazioni, ma anche come selezionare dati amministrativi, dati statistici, comprenderne la portata e individuare le fonti più appropriate per comprendere un settore, per studiare un territorio e quindi per rafforzare integrare la propria ricerca. La rete dei referenti territoriali dell'Istat è dunque diventata un supporto essenziale del percorso scolastico di Open Coesione e ha visto quasi il 60% dei team nei diversi territori regionali italiani godere di questo sostegno e di questo supporto e quindi rafforzare le proprie capacità statistiche. Dal 2019 insieme all'Istat la partnership si è arricchita e oltre al supporto garantito dai referenti regionali e territoriali dell'Istituto si è avviato un percorso formativo rivolto ai docenti denominato Cultura Statistica Plus che consente appunto agli insegnanti coinvolti in questo percorso didattico di approfondire tematiche legate alla cultura statistica e a dati, a indicatori, alla definizione e costruzione di indicatori sintetici, alla selezione delle fonti, all'approfondimento su diversi contenuti informativi sviluppato su quattro webinar. Tutto il percorso didattico di a scuola di open coesione così come il percorso formativo per i docenti è infatti definito attraverso una modalità di Massive Online Course, quindi è un percorso didattico a distanza, fruibile online, che ha visto cimentarsi numerosi docenti anche nell'approfondimento di contenuti statistici. Il corso prevede al termine dei quattro webinar tenuti da diversi esperti dell'Istat sia di comunicazione che di diversi ambiti tematici il riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e nelle ultime due annualità oltre il 50% dei docenti che hanno partecipato ha ricevuto questo attestato. direttamente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione. I docenti nei feedback ricevuti nel corso di questi anni scolastici hanno apprezzato significativamente i contenuti proposti che trovano poi l'opportunità di valorizzare anche all'interno delle materie curriculari che insegnano, al di là anche del percorso didattico a scuola di open coesione. Il coinvolgimento dei diversi docenti nel percorso didattico di ASOC ha visto insegnanti in larga parte provenienti da materie scientifiche, quindi docenti di insegnamenti che rientrano tra le discipline scientifiche ma anche una consistente quota di insegnanti di area linguistica all'interno della quale rientra l'insegnamento della lingua italiana, della storia, della filosofia o delle lingue straniere, così come docenti di area tecnica o di ambito artistico, a dare ulteriore evidenza del fatto che la statistica riesce a interessare, coinvolgere e ad avere diciamo delle positive evidenze in ambiti disciplinari anche molto differenziati tra loro, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, alla possibilità di visualizzare, rappresentare, costruire infografiche e utilizzare i dati per studiare diverse tematiche e approfondimenti.